Cari amici del canale, fra qualche ora parto per Milano per realizzare alcuni video un po' particolari che saranno ovviamente proiettati qua sul canale e la mani mi ha chiamato e ha detto Gianni potresti farci un video perché abbiamo un offerto, uno sconto particolare sulle batterie ho detto sì, quindi sarà brevissimo perché lo devo montare anche e poi devo partire quindi è un video un po' low quality, quindi perdonatemi ma qui ci saranno dei montaggi, delle sovraesposizioni gli ho detto mandami le foto del magazzino di Milano ebbene parliamo di batterie da 15 kWh circa quindi sono celle importanti ovviamente di grado A ragazzi e adesso qua metterò qualche foto che nel frattempo mi sta spedendo del magazzino di Milano cosa vuol dire magazzino di Milano per coloro che sono iscritti da poco o che non hanno ancora acquistato significa ritiro diretto se abitate lì vicino nella zona Milano quindi tutto il nord Italia da Brescia, Bergamo, c'è chi viene anche da Torino eccetera oppure ve le fate spedire se abitate a Sud Italia, a Centro Italia e non volete andare a ritirarle personalmente anche perché i costi si sa che tra benzina e autostrada spendereste di più che farvele consegnare dal corriere ora tre giorni lavorativi per chi le ordina e le fa arrivare dal corriere invece direttamente le potete ritirare lì vi ricordo sempre che l'ordine avviene sempre tramite il link che c'è qua sotto tramite Alibaba quindi voi parlate con la Cina, pagate in Cina dopodiché vi danno l'indirizzo e la consegna diretta da Milano se volete ritirare è una cosa molto semplice oramai è anni che lavoriamo così con la Mani e la qualità delle batterie oramai è consolidata tutte di grado A tutte testate personalmente da loro vi ricordo anche una cosa importante la Mani adesso facendo i test di scarica totale e carica totale per vedere e verificare la reale capacità delle batterie mi ha detto già da tempo ma io ogni tanto lo devo ridire perché diciamo soprattutto i nuovi non lo sanno che non c'è più bisogno del bottom e del top balancing perché lo fanno già loro dopo l'acquisto loro cosa fanno? mi sono fatto aggiungere altri dettagli perché siamo sempre in contatto con questa azienda con la direttrice Italia che si chiama Yan Lam ebbene loro acquistano queste celle ad esempio della Etium e la Etium già dà il report del loro test e loro verificano il test fatto dalla casa madre non è una questione di sfiducia ma è una questione di doppia verifica quindi quando le celle sono ad esempio 293 Am per ora loro verificano e sono circa 293 Am per ora a volte lo sapete che nei test a seconda della quantità cioè della potenza con la quale carichiamo una batteria potremmo avere 1-2 Am per in meno se invece carichiamo più lentamente potremmo avere questi 1-2-3 Am per in più e questo lo dico anche per dire a voi che quando utilizzate le celle sappiate che la longevità è data anche dall'utilizzo quindi quanto più prepotentemente lo usiamo con tanto solare oppure con grandi assorbimenti da parte dell'inverter ebbene abbiamo qualche Am per in meno e la longevità si abbassa però sono dettagli descrittivi che io come al solito aggiungo nei miei video ma non sono significativi ebbene queste batterie da 15 e passa kilowattora hanno all'interno il BMS della Seplus che quindi consente di posizionare le batterie anche in parallelo vi ricordo che il parallelo se invece fate fai da te con BMS della Delia o quant'altro come all'inizio di tutta l'avventura litio io non lo consiglio c'è chi lo fa interponendo dei fusibili tanto ho queste sicurezze ma una cosa che a me non piace invece con questi Seplus che hanno una gestione molto intelligente dei MOSFET ebbene con questi possiamo fare anche in parallelo non consiglio di comprare batterie indifferita dopo un anno quindi se ne comprate una adesso e superate questo anno oppure anche sotto l'anno ma le avete usate ampiamente non consiglio più di comprarne un'altra e di metterla in parallelo perché abbiamo perso la sintonia degli elementi quindi ragazzi lo sapete che su internet c'è molta faciloneria tutto va bene perché? Perché tutto funziona quando io attacco in parallelo funziona ma la legge di Murphy è sempre in agguato qualcosa che può andare male va sempre male e quindi andiamo a rovinare le batterie andiamo a creare dei corti circuiti è vero che le protezioni con i fusibili va bene pam parte un fusibile eccetera ma con i Seplus abbiamo risolto anche questa situazione quindi decidete voi quante batterie prendere una perché vi va bene così volete consumare la diretta dei vostri 15 kWh che sono tanti e va bene così oppure volete più riserva quindi due poi tre e quante ne volete comprare voi? avete visto che ho fatto anche un video per quanto riguarda il 60 kWh per coloro che sono diventati veramente molto molto energivori ebbene ragazzi il Seplus che usa la Mani è quello stabile è il 2.0 attenzione avete visto anche su Intercir con dei test effettuati e delle verifiche sul 3.0 che ha anche il bilanciatore incluso ma la stabilità sembrerebbe non essere buona come il 2.0 però su questa affermazione vorrei che faceste ricerche voi personalmente sulla rete perché non voglio fare colui che deve sentenziare sui prodotti la Mani sceglie sempre il top quality ecco perché ha messo il 2.0 perché è un BMS della Seplus da 200 A di potenza molto molto stabile soprattutto sui paralleli non si pianta mai e quant'altro quindi ragazzi l'offerta sapete che qua prezzi non se ne fanno sotto c'è il link nella descrizione del video chiamate fate tutte le domande tecniche commerciali attenzione il prezzo che vi dirà mi ha già detto di dire che è DDP DDP significa che è tutto incluso quindi dal magazzino di Milano ve lo consegnano o al magazzino di Milano li ritirate le ritirate le batterie e avete il prezzo che vi dice è quello pagate come volete voi Paypal, bonifico eccetera tanto questa azienda oramai è anni che lavora con questo canale ed è molto molto seria è un'azienda che è sempre stata disposta al dialogo a rispondere a tutte le domande con gentilezza insomma coloro che hanno acquistato che stanno guardando questo video pregherei anche di mettere sotto le vostre personali conclusioni sul vostro acquisto ragazzi questo è un video corto io adesso doccia macchina e parto per Milano per realizzare dei video ragazzi e li vedrete tutti nelle settimane prossime a venire belli dal mio punto di vista ovviamente ma sarete voi a giudicarli attraverso la visione attraverso i commenti che è la solita collaborazione che contraddistingue me come creatore di questo canale YouTube e voi come amici di questo canale ragazzi è finito sono stato cortissimo raro l'offerta è questa l'azienda la mani avete visto le foto di cosa stiamo parlando magazzino di Milano ritiro diretto o consegna iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video ragazzi questo fine settimana ci sarà un video non lo dovete perdere guardatevi buona giornata ciao 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 ciao